La campanella sta per suonare, ma in questa vigilia d'avvio dell'anno scolastico sono tante le preoccupazioni che assillano le famiglie, a cominciare dal costo degli abbonamenti per il trasporto. Frequentare le superiori costa il doppio, in alcuni casi anche il triplo rispetto al passato, colpa della congiuntura che ha dissanguato le casse dell'amministrazione provinciale, che non ha potuto mantenere le agevolazioni. Il momento è difficile. La provincia taglia, i comuni rispondono. Succede a Cortina dove la giunta ha deciso di attivarsi. Nei prossimi giorni verranno calcolati i maggiori costi che dovrebbero gravare sulle famiglie che hanno i figli che studiano fuori paese e si valuterà in che modo il comune potrà intervenire. Succede a Calalzo. Noi interverremo con una posta di bilancio di 5.000 euro con una serie di contributi che tengono in considerazione sia la distanza e quindi l'importo e sia il reddito ISE della famiglia. È inammissibile che una famiglia con due figli possa spendere oltre 1.000 euro per mandare i figli a scuola a Belluno. Da Palazzo Piloni assicurano ogni euro recuperato sarà destinato a coprire l'importante servizio, ma intanto sono i genitori che devono tirar fuori i soldi. Mi fa arrabbiare, mi fa arrabbiare perché non è giusto. Infatti io non ho mai fatto uno sciopero in vita mia. Non ho partecipato alla manifestazione, ma per solidarietà, perché non dicano che non ha diritto nessuno allo sciopero, quest'anno l'ho fatto anch'io. Ho 40 anni, sono 22 anni che lavoro, è la prima volta che lo faccio. Da lunedì comunque tutti in classe, ma a che prezzo? È l'ennesima dimostrazione che i cittadini non sono tutti uguali. È l'ennesima schiaffo alla parte alta della provincia, perché è evidente che la parte alta è quella che va a subire di più, o comunque le zone periferiche.